Credimi, se mi dai delle lezioni di ballo, mi salvi letteralmente la vita, non scherzo. Aspetta, se sei in un velo show, come mai non hai un coreografo? No, ce l'ho, ma quello è completamente fuori di testa. E se invece fossi tu fuori di testa? Come lo so che sei serio? Beh, vieni con me alle prove, così vedi. Frena, bello frena, io non seguo un tipo che non conosco a delle prove. E allora come te lo dimostro che sono serio? Lo sapevo che eri fuori di testa.